buonasera video abbastanza breve anche perché non me l'ho ricordato di mettere in carica il telefono quindi purtroppo non è che sia sto granché però volevo farvi un velocissimo aggiornamento su cosa si farà in parlamento settimana prossima e perché impatta alcune cose che ci interessano molto come ad esempio la questione green pass perché come vi ho detto e vi ripeto purtroppo mercoledì ho un piccolo intervento niente di traumatico mi devo così perché sennò evito di dire oddio cosa fai con di questo tipo mi devono togliere la cistifellea perché ci sono i calcoli quindi mi hanno assicurato che perché altrimenti c'è una roba che invece mi hanno riferito essere un gastroenterologo che non è cartabellota mi ha riferito essere poco simpatico perché altrimenti se non lo fai c'è la pancreatite che invece dicono che sia una cosa molto evitabile per cui niente insomma sono 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 giù a roma uno dei motivi anche per cui ho scelto poi di di fare togli che se per caso poi devo correre in qualche maniera in parlamento perché c'è l'unico voto l'ho già fatto quando mi sono fatto l'operazione alla gamba c'era gualtieri da rimbeccare sul mess sono arrivato il giorno dopo l'operazione posso magari vedere di fare il bis quindi tenuto presente che purtroppo non sono immediatamente agevole non so non ho mai fatto un intervento del genere quindi non so quanto tempo mi va via perché così via preferisco aggiornarvi prima allora che cosa succede succede che il famigerato decreto obbligo vaccinale quello che ha dentro sia l'obbligo vaccinale poi inserito dentro anche con un emendamento del governo l'ultimo decreto quello dove c'era dentro quella roba infame del della dad differenziata per i bambini a seconda se fossero vaccinati o meno cioè queste cose assolutamente intollerabili è all'esame della commissione 12 affari sociali a seguito dell'esame della commissione dopo passa in aula dove già si ventila che vogliono mettere la fiducia cosa che secondo me sarebbe assolutamente da evitare perché è da settembre che l'aula di Montecitorio non esamina e non discute un decreto senza un decreto covid senza che sia messa la fiducia per cui io penso che tenuto presente che anche le decisioni se mettere la fiducia o accettarlo a meno dipendono sia dal consiglio dei ministri e poi dipendono anche dalla programmazione dei lavori dell'aula io sinceramente penso che debba esserci una maggioranza di partiti anche solo per evitare la fiducia in modo tale che l'aula possa esprimersi cosa succede in settimana nell'aula all'inizio si discute il mille proroghe il mille proroghe è stato gestito in commissione fra cui la mia quinta e prima è stata quel quel decreto all'interno del quale ci sono stati quella nottata agitata diciamo così dove il governo è andato sotto su quattro emendamenti uno dell'ilva uno del contante no e così via il testo quindi come è venuto fuori dalla commissioni dalla commissioni riunite non può essere modificato quindi non è che si può decidere di ritornare dire no vabbè l'abbiamo votato ma abbiamo scherzato cioè una volta votato approvato è fatto quindi la questione del tetto al contante per esempio non può essere cambiata va in aula viene chiesta la fiducia ci sarà la fiducia perché è enorme quel decreto è impossibile considerare di riaprirlo di riapirlo in aula dopodiché come sempre per l'aula di montecitorio funziona che la fiducia significa che vengono cancellati tutti gli emendamenti tranne quelli ovviamente già approvati in commissione quelli non li tocca più nessuno una volta cancellati tutti gli emendamenti si avrà quindi la votazione sul provvedimento prima però bisogna fare gli ordini del giorno quindi queste belle cose che non servono a niente ma che occupano buona parte del tempo parlamentare ci saranno centinaia di ordini del giorno con su prorogare la graduatoria dei poliziotti degli insegnanti dei vigili del fuoco così così tipo tutte quelle cose che magari dovevano essere prorogate o qualcuno si aspettava che venissero prorogate e non è stato fatto verranno ripresentate una volta ripresentate se funziona che se vengono accettati gli ordini del giorno diciamo sono in automatico se non vengono accettati invece possono essere messi in votazione questo verrà fatto probabilmente nei giorni lunedì martedì e secondo me si va forse anche a mercoledì dopodiché potrebbe arrivare in aula il famoso decreto covid e qui dipenderà da due cose uno quale sarà stato il destino del famigerato emendamento quello che ho sottoscritto anch'io per far cancellare il green pass da fine marzo non credo di essere tanto lontano dalla previsione del vero se penso che il governo non darà mai parere positivo a questo emendamento per un motivo semplice se anche avessero intenzione di procedere con riaperture e calorestrizioni non vorranno mai darne merito a noi quindi molto banalmente loro diranno che non sono d'accordo perché è troppo drastico perché bisogna fare una cosa graduale inventatevi un po' quello che volete e se qualora faranno delle riaperture vorranno prendersene loro il merito mi è parso già di capire di leggere ciò dalle parole di Draghi lasciamo perdere poi quello che è arrivato Speranza a dire no per carità non si fa niente quello è il solito gioco delle parti ma tenuto presente che la situazione è insostenibile in questo momento insostenibile siamo gli unici buffoni in giro per il mondo che hanno il green pass anche per la colazione e si avvicina a grandi passi la stagione turistica e dato che non penso che possa essere realistico o credibile dire che se tu sei straniero allora non c'è problema fare un po' quello che vuoi viceversa se sei italiano non puoi neanche prendere caffè mi viene in mente che dovranno andare sperabilmente sulla strada delle restrizioni ovviamente vorranno non lasciare il merito a noi quindi probabilmente non lo faranno però sarebbe un gesto serio per una volta da parte del Parlamento che tanto abbiamo visto che se anche vota in difformità rispetto al governo su un singolo emendamento non succede niente Draghi ha pianucolato quando è stato passato l'emendamento sul testo del contante ma è ancora lì ora stiamo parlando del tetto del contante stiamo parlando della data di uscita dal green pass uno può dire che è una cosa un po' più importante rispetto all'altra però non importa il meccanismo è sempre quello il Parlamento può cambiare quello che è il testo di un decreto dato che il Parlamento può cambiare qual è il testo di un decreto lo cambia facendo emendamenti dato che tutti hanno avuto chi più chi meno degli ordini del giorno dove chiedevano che venisse posto fine restrizioni a partire dal 31 marzo e così di questo tipo bene, gli ordini del giorno sono una cosa vaga l'emendamento è una cosa vincolante per cui io mi auguro sinceramente che ci sia un momento un sussulto di orgoglio da parte della Commissione e che l'emendamento sia passato qualora non fosse passato va riproposto per l'Aula e a quel punto poi la vedete anche voi la votazione perché ricordate che nelle Commissioni non si vede chi ha votato chi, quanti sono, che cosa viene solo registrata la maggioranza e la minoranza quindi approvata maggioranza, respinto a maggioranza invece se si riesce a portarlo poi nell'Aula forse riuscirete a vedere chi ha intenzione di votarlo o meno e non sono gli ordini del giorno è venuta fuori tutta un'enorme polemica sull'ordine del giorno di Fratelli d'Italia sono andato a riguardarmelo per curiosità perché ho detto boh magari mi è sfuggito qualcosa l'ordine del giorno aveva ricevuto parere favorevole già che non vale niente aveva ricevuto parere favorevole del governo e ce ne erano altri uguali o molto simili presentati da il Movimento 5 Stelle e da altri partiti comunque mi sembra un gruppo centrista o similari poi ovviamente c'era il nostro uguali il governo ha detto accettiamo gli emendamenti con la riformulazione compatibilmente con la curva epidemiologica allora dice non hai accettato la riformulazione lo metti in votazione di base è un ordine del giorno ognuno si vota il suo perché sono tutti gelosi del proprio ma era il nulla il nulla stiamo parlando di ordini del giorno che non impegnano nulla ok? e di cui uguali che invece impegnavano il governo a valutare la cessazione delle restrizioni per il 31 marzo passati uguali quindi è solo propaganda su niente l'unica cosa realistica che poi diventa eventualmente testo vincolante di legge è passare un emendamento al decreto che stabilisca che il Green Pass viene cancellato con la fine dello stato d'emergenza ovvero il 31 marzo questo è depositato può essere votato e se non verrà votato vediamo di portarlo in aula in modo tale che possiate vedere con i vostri occhi poi comunque ci sono i resoconti se uno poi non ci crede staccare la spina al governo poi sono sempre le stesse cose staccare la spina al governo significa innanzitutto che rimane in carica fino alle eventuali elezioni oppure che ne fanno molto semplicemente un altro senza chi ha staccato la spina andando avanti come se nulla fosse è una soluzione? io penso sinceramente di no mi viene in mente poi anche un'altra cosa anche perché mi pare chiaro che ci sia il presidente che è ancora un po' delusino da quello che è successo per il Quirinale ricordiamo che Mario Draghi voleva essere eletto al Quirinale potrà anche dire di no ma lo sanno tutti che voleva essere eletto al Quirinale e che lo ha chiesto direttamente ai vari partiti ai vari leader lo sanno tutti quindi lui voleva essere eletto al Quirinale è andata in modo lievemente diverso rispetto a quello che immaginava e quindi è ancora un po' arrabbiatino io ho il vago sospetto il vago sospetto che se uno voleva traslocare significa che non è contentissimo dove è adesso per cui può anche essere che gli faccia anche quasi piacere se uno arriva e stacca la spina ci sono autorevoli commenti in tal senso in questo momento nei giornali quindi non è che mi sto inventando io qualcosa leggo commentatori che dicono che potrebbe fargli piacere se arriva qualcuno e dice ah sì sì allora ti do uno strumento per per andartene sono combattuto sono combattuto se immaginare che forse è una buona idea oppure oppure non lo è e e mi viene anche quasi da pensare che la volta che noi dovessimo staccare la spina cosa che ovviamente non c'è nessuna al momento nessuna nessuna evidenza perché Salvini ha torto o ha ragione ha detto sempre chiarissimamente che lui vuole stare all'interno del governo per poter dire la sua è riuscito a tenere e gli va dato merito perché prima di tutti me compreso aveva cominciato a capire l'importanza della questione delle bollette è riuscito ad avere 7 miliardi con il decreto energia adesso arriverà a sostegni terra su tutti questi decreti quindi il fatto di poter essere in maggioranza significa che si può stare attenti che i soldi arrivino dalla parte dalla parte giusta quanto meno cercando di avere perché su queste cose non c'è una contrapposizione ideologica come c'è sul green pass cioè se per esempio questioni tipo il catastro similari di alleati ne troviamo essendo dentro di alleati qualche una volta è Forza Italia qualche volta Italia Viva qualche volta addirittura qualcuno del PD o similari si riesce a ottenere qualcosa come per esempio il fatto tanto per dire il catastro è stato bloccato fino ad ora fosse stato per Draghi per Franco per la struttura del MEF l'avrebbero già messo la riforma del catastro l'avrebbero già messa dentro 100 volte quindi il fatto di poter essere all'interno e riuscire a gestire queste situazioni per Salvini è più importante rispetto che stare fuori e lasciare che gli altri gestiscano tutto senza ottenere nulla in cambio perché ovviamente non fermerebbe l'eventuale maggioranza per il Green Pass o no non venitemi a dire è giusto è sbagliato è così è così non lo decido io per cui al governo in ogni caso Salvini ha già detto chiaro che ci sta nel momento stesso in cui tu dovessi dargli qualche scossone un pochettino serio su determinati punti io non lo so ho lieve sospetto che nel momento stesso in cui noi per astratto ripeto Salvini non ha nessuna intenzione ma che volessimo uscire dal governo ma il secondo dopo secondo me invece toglierebbero le varie restrizioni e così questo tipo perché a quel punto non vorrebbero lasciare delle armi per chi sta fuori quindi mi sento quasi responsabile non so come dire io penso che Speranza e Compagnia Bella siano così simpaticamente attenti agli interessi degli cittadini che in realtà guardino molto che cos'è che potrebbe danneggiarci o meno e che si impegnino in tal senso quindi vorrebbe quasi a dire faccio il sacrificio se il problema sono io ti lascio fare questo sospetto qua poi magari mi sbaglio comunque il punto che cos'è che allora ricapitolando programma di programma della prossima della prossima settimana primi giorni si chiude il mille proroghe già chiuso quindi voto di fiducia vengono mantenuti gli ordini del giorno quelli passati in commissione di notte anche quelli su cui il governo era contrario contante ilva graduatori insegnanti e così via dopodiché votazione finale per il mille proroghe lunedì in contemporanea con i voti di fiducia simili c'è il voto in commissione sull'emendamento quello per cancellare il green pass e dopo si vede se portarlo in aula e se chiederanno fiducia anche per quello oppure se si disputerà in aula io vi tengo aggiornati ovviamente almeno per l'inizio della settimana cioè per quello che succede succederà domani in commissione e per il resto poi invece almeno mercoledì mi sa che ci sarà un mini blackout perché perché ogni tanto capita anche a me di di dover andare sotto qualche ferrino ecco mettiamola così ultimamente non ero quasi mai stato operato di niente fra la gamba e due anni fa e la cistifelle adesso comincio a recuperare quello che non ho fatto non ho fatto prima e quindi niente insomma questo questo è Alberto è in senato quindi un po' aiutarvi io se posso darvi un nome magari di un mio collega da seguire oltre magari a quelli che già seguite vi posso dare il nome di un mio collega che tiene ben aggiornati sulle questioni del Green Pass vi direi il bravo e giovane Alex Bazzaro che è consigliere comunale a Venezia secondo me è molto preparato insomma su queste questioni e molto bravo sui social perché ce ne sono altri che ovviamente la seguono più direttamente per dire la gestione della questione in commissione 12 per noi la fa Rosanna Boldi medico iper pro vaccini ma stufa anche lei terze dosi richiami fare le fare dosi ai guariti e così questo tipo lei ne ha fin qui vi posso assicurare che è piccolina ma è arrabbiatissima e ne ha oggettivamente fin qui anche lei però forse non è non è così non è così spigliata sui social per fare dirette o questioni è un po' come direste voi è un po' boomer da 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 quel lato quindi fra i vari nomi di deputati della Lega che potete seguire che vi possono aggiornare nel momento stesso in cui io non non sono non sono accessibile vi suggerisco appunto fra i tanti Alex Bazzaro che secondo me potrebbe essere molto informato vi può dire come vanno le cose vi rendete conto che tanta gente non può lavorare sì che mi rendo conto che un sacco di gente non può lavorare ma se faccio casino contro Green Pass da mesi è perché non mi rendo conto volete dirlo a me volete dire a me che aspetta metto comodo in favore di telecamera penso che il Green Pass sia un abominio è chiaro così magari ci fate la clip aspetta lo rifaccio penso che il Green Pass sia un abominio non serve a nulla è stato terribilmente invasivo nella vita di milioni di italiani e il risultato di questa invasività che non verrà sanata secondo me nemmeno dopo molti e molti anni nella vita degli italiani è stato nullo dal punto di vista sanitario dal mio punto di vista anche se fosse stato utile dal punto di vista sanitario non l'avrei accettato lo stesso perché non si scherza con i diritti costituzionali ho fatto casino in aula persino per il Green Pass per la pizza al chiuso figurarsi per il lavoro il lavoro è un diritto che non deve essere subordinato a niente l'idea di subordinarlo al Green Pass o all'effettuare di una qualsiasi tipo di trattamento sanitario è un'oscenità ci siamo quindi il Green Pass è orribile dal punto di vista costituzionale e sociale lo sarebbe stato anche se fosse stato efficace per contenere il virus i dati alla mano ti dicono che non è stato per niente efficace per contenere il virus è stato omesso che c'erano 2000 contagi al giorno siamo andati a 200.000 chiunque sia minimamente onesto intellettualmente può solo dire che dal punto di vista del contagio è stato un fallimento quindi togliamoci dalla testa l'idea che col Green Pass si siano prevenuti i contagi perché non è successo così col Green Pass si è invece convinta la gente a vaccinarsi perché bisognava farlo in tutti i modi nemmeno se noi sovrapponiamo le curve del numero di vaccinazioni in Italia rispetto ad altri paesi che non hanno adottato il Green Pass otteniamo esattamente la stessa cosa quindi non hanno non ha forzato nessuno a vaccinarsi di più qualcuno subito dopo l'annuncio c'è stato giusto per fare i titoli del giornale ma poi alla fine scatta una reazione opposta la gente si chiude a riccio si radicalizza non ne vuole più sapere anche se era ben disposto ai vaccini io sono uno di questi a me dei vaccini non mi è mai fregato un cazzo è chiaro a me quando arrivavano i Novax quelli veri ancora prima ancora del covid a dirmi io ero solidale con le loro argomentazioni perché per me è giusto che ci sia libertà di scelta ma a me personalmente non mi sono mai posto particolarmente il problema di dire no io non mi faccio il vaccino ma non mi frega niente sono riusciti a mandarmelo in odio io quando sento la parola vaccino mi viene fastidio chiaro? così almeno chiariamo come la penso mi viene fastidio quando sento la parola vaccino e non avevo nulla contro i vaccini penso che abbiano salvato delle vite sì probabilmente sì per le persone anziane i numeri sono ancora a favore dei vaccini mi verrebbe ancora da dire che se c'è qualcuno che a 60 anni magari o a 70 80 o con delle malattie pregresse o con l'asma o così questo tipo che ha avuto il covid e ne è venuto fuori tranquillo magari è stato anche perché si è vaccinato quindi così mettiamo subito in chiaro che non non è che ho un'ostilità pregressa nei confronti di questo vaccino ma gli obblighi specialmente generalizzati a chi in ogni caso non aveva nessun interesse a farlo per i bambini per i ragazzi e così questo tipo mi hanno mandato non so se sono stati questi poi a causarmi il danno del sistema gastrico ma non ne posso più non riesco più a sentire il nome cioè ogni volta che uno nomina la parola vaccino mi dà fastidio e questa conseguenza così come succede con me succede sicuramente anche con un sacco di altra gente quindi non c'è stato nessun effetto positivo sul numero delle vaccinazioni da parte del green pass quindi se la gente veniva convinta con l'informazione si sarebbe ottenuto esattamente lo stesso risultato che si è ottenuto con l'obbligo senza far incazzare nessuno invece hanno fatto incazzare tutti e man mano che passa il tempo e man mano che chi pensava di aver fatto una vaccinazione che era a posto invece adesso scopre che non è a posto perché quinta decima centesima dose anche nei momenti in cui non serve assolutamente a niente oppure perché dopo che è guarito vogliono andare a rompergli le palle anche dopo che è guarito secondo me questi si vanno ad aggiungere alla schiera di quelli che dicono che non ne possono più motivo per cui io penso che cambieranno le cose all'interno la gente non ne può più di sentire sta storia qua e dall'esterno dicono se sono matti e io figurati se vado a passare il mio tempo o la mia vacanza in un paese dove si è lì a sventolare il si è lì a sventolare passo o così questo tipo da tutte le parti in paesi dove il Green Pass ormai non sanno più neanche cosa sia per cui spero di essere stato abbastanza chiaro non venitemi a convincere che è un oddio non sto lavorando un abominio lo so lo so ma cazzo ho votato ho votato contro persino all'obbligo per i sanitari che tutti dicevano ah ma no sanitari è una cosa da pazzi non avere l'obbligo perché se no altrimenti nell'RSA i poveri vecchietti i poveri cosa fai rischi il contagio rischi il focolaio il focolaio nell'ospedale tutti morti no e cose di questo tipo cioè quindi tutte queste belle argomentazioni che portavano che portavano tutti a considerare che fosse normalissimo e giustissimo avere l'obbligo per i medici e i sanitari di vaccinarsi ho votato contro anche lì eravamo 48 ecco ero uno dei 48 poi si è votato per il Green Pass o per il lavoro ho votato contro ovviamente anche lì 33 eravamo per il lavoro 33 quindi non venitemelo a dire lo so benissimo è una cosa orribile non 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 ditemelo non state neanche a menarmela con le sci fai e così questo tipo io ve lo dico ve lo dico ogni volta ve lo dico in ogni video ve lo ripeto ancora una volta che cazzo serve il fatto che io esca che io entri o così questo tipo rispetto a risolvere il problema perché così poi tu sarai credibile lascia perdere la mia credibilità me la me la gestisco io per te può essere non credibile una persona che sta in maggioranza anche se questa maggioranza prova delle cose orripilanti per un altro può essere non credibile il fatto che uno viene eletto col simbolo di un partito e poi se ne va gira cambia questo tipo il mondo non siete voi la mia credibilità è quello che dico e quello che faccio esco da un qualsiasi parte nel momento stesso in cui mi impediscono di fare la mia attività politica e in cui mi impediscono di votare o di esprimermi come io penso che sia giusto questa cosa non succede all'interno della Lega ho votato in difformità perché appunto ho votato contro questo questo quest'altro non sono stato sospeso sgridato cose di questo tipo capiscono la mia posizione e la rispettano quindi non è che se esco da qualche parte il mio voto no diventa due se diventasse due o tre o quattro perché se esci si moltiplica magari potrei capire ma non è così e lasciate perdere cos'è la mia credibilità futura perché allora tu sarai credibile per le prossime elezioni perché magari le prossime elezioni faccio altro a quel punto potrete votare pinco pallo che veramente è andato in piazza a dire chissà che e così vediamo che cosa fa lui chiaro? quindi evitiamo c'è margine con i 5 stelle è io questa cosa è importante questa cosa è importante sì ancora Alfredo non lo so guarda veramente la solita storia c'è margine con i 5 stelle beh c'è margine con i 5 stelle io penso che ci sia vale la pena di ho dato il telefono grazie